Un saluto da Cromboy, bentornati in U-Boat, è il 12 ottobre del 41 e siamo alla Rochelle con il nostro nuovo sottomarino. Per prima cosa il mistero dei bunker che non ci sono, è semplicemente perché io non riesco a leggere correttamente quello che mi dice l'ammiragliato nella ricerca. Allora, questa cosa non vuol dire che ci sono dei bunker, vuol dire che possiamo ricercare i bunker, possiamo costruire i bunker, quindi mandiamo il nostro kramer. Tra 30 giorni avremo i nostri bunker, perfetto. Dopodiché cominciamo a fare le nostre classiche operazioni di bordo, partendo dalla cambusa naturalmente, e carichiamo un po' di questi, ok, e un po' di verdura fresca, ok. Ok, usciamo, prendiamo Raidback e andiamo a fare provviste. Partiamo dal carburante, riforniamo i siluri. Allora, adesso abbiamo accesso a qualunque tipo di siluri, oppure questo che è in grado di inseguire le eliche vicine. Quindi andiamo a metterne uno di questo tipo, due FAT e uno, diciamo, standard. Dietro mettiamo un siluro di quelli economici, perché appunto usiamo i tubi di coda solo come ultima risorsa di combattimento, e poi tutto il resto carichiamo quello che abbiamo. Non mi ricorderò mai dove ho caricato che tipo di siluri, quindi finirà sempre che tirerò quello che capita. Ok, ecco qua, il carburante abbiamo fatto, munizioni sul ponte, carichiamo, compriamo, perfetto. Qua abbiamo altra roba, perfetto. Ok, e qui dovrebbe essere tutto il cibo. Andiamo a riempire quello che possiamo. Ah, purtroppo non ho consumato questi pesci qua. Ok, questo, questo, questo. A posto. Equibaggiamento. Non ho gli assorbitori di potassio nel sistema da reazione, quindi io tolgo un kit medico. E prendo i 17 assorbitori di potassio che abbiamo. Poi, anche l'esca che abbiamo consumato, salutiamo e andiamo 6 giorni fuori servizio. Perfetto. Dopo 6 giorni possiamo andare in magazzino e tornare a vedere le questioni principali. Andiamo agli altri assorbitori di potassio che sono arrivati nel mentre e vediamo se c'è del cibo, non c'è pane, non c'è nient'altro e quindi usciamo a rivederci. Questo sarà solo un'ora perfetto. Andiamo quindi dal primo ufficiale a sentire che ordini ci sono dall'ammiragliato e abbiamo una nuova offensiva. della nostra Taktica è un'ora. Quindi abbiamo l'armamento L'offensiva del Pozzo Nero Ovvero della battaglia nel centro atlantico E poi si è anche sbloccata le pattuglie a nord Che sono nel caso ci spostassimo nei porti norvegesi Nel mentre ho accettato la missione del Pozzo Nero Andiamo a scaricare i nostri prigionieri E dopodiché avevamo trovato un codardo Al cui purtroppo avevamo dato una specializzazione Ma va bene ci prendiamo Questa perdita lo congediamo E andiamo a prendere un altro marinaio più valoroso Purtroppo non possiamo già dargli Una Una promozione Allora siamo passate le ultime ore A questo punto prendiamo qualcuno E carichiamo questi famosi Il famoso potassio Nel sistema da reazione Perfetto Abbiamo un buco libero che potremmo utilizzare In qualche caso Noi usciamo in mare Avanti mezza E partiamo E siamo praticamente in zona operazioni 50 km Dalla zona operazioni A questo punto Tutto normale E passiamo Alla nostra routine di esplorazione Andiamo nord-sud Ok abbiamo Sentito qualcosa La intercettiamo tra 11 km A questa velocità Andiamo a vedere cos'è Rimarrai stupito Se si tratta di una nave isolata Infatti cominciamo a sentire Qualche altra nave Quindi noi stiamo Assolutamente in Quota periscopica Ok andiamo a vedere di cosa si tratta Fumagliolo Individuato Eccolo là Uh Argentina Ok Allora Considerando che dovrebbe essere Isolata C'è questo secondo segnale Che un po' mi preoccupa Ma noi proviamo A emergere Andare a dargli un'occhiata Perché è una nave argentina Ma sta chiaramente andando Verso l'Inghilterra Affianchiamoci Premiamo i motori E indagliamo Il mercantile è una C3 Tra l'altro Quindi è una bella preda Ci vuole qualcuno Con abilità di navigatore Per Andare Eventualmente A questionare Sul Sul fatto che la nave Sta andando Verso l'Inghilterra Chiedo le borre di carico Faccio pressione Perché non penso Siano vere E gli dico Appunto Che stanno andando Assolutamente Verso l'Inghilterra Non verso il porto Di Vigo E a questo punto Lui risponde Che alcune Ha letto accusa Ma dopo Le tue insistenze Crolla e ammette Che i documenti Sono falsi Scopri che Stanno Contrabbandando Delle merci Verso la Gran Bretagna Sotto Falsa bandiera E quindi Evacuate ragazzi In sala motori Non facciamoci Troppi problemi Una C3 Affondiamola I danni Che possiamo fare Qua sono Più di quello Che potremmo Mai portare a casa E abbiamo Effettivamente Anche completato L'obiettivo Della missione Con una singola Affondamento Andiamo a vedere Una scialuppa Di salvataggio Invitiamo a bordo C'è il capitano E tutti i suoi amiconi Ok 6, 7, 8 Continua Perfetto Poi andiamo Dall'altra Diamogli un po' Di provviste Abbiamo del pane Perfetto Non c'è di che Via i messaggi All'altra barca Consegna Un altro po' Di pane Non c'è di che E quindi Andiamo di nuovo A bordo A vedere Un paio Di dettagli Non da qui Volevo naturalmente Vedere in che stato È la nostra Cambusa E quanti giorni Di navigazione Abbiamo La nostra missione In teoria È compiuta Quindi noi Possiamo Cominciare a mettere Tutto il pesce Che abbiamo qua A posto E abbiamo Un 24 giorni Di scorte Questo ci dice Di andare a vedere Che altro c'è qua Attorno Quindi torniamo In immersione Avanti Avanti Mezza E vediamo Cosa c'è C'era una seconda nave Vediamo di intercettarla Eccola 16 km Intercettiamola In immersione Anche lei Ok Non riusciamo A prenderla A questa velocità Velocità massima Sta andando Bella veloce Ok Immersione Ok Avvistato Fumaiolo Avviciniamoci Dovrebbe essere Da solo Quindi se è Britannica Non dovremmo Avere problemi Se non lo è La perquisiamo Ok Ed è Argentina Ma se ho sentito Bene Ed ho sentito Effettivamente Bene Ha chiamato Tanker E questa è una Petroliera E le petroliere Non le possiamo Fermare E questo è un problema In questo gioco Effettivamente Perché io A questo punto Questa La lasciamo La lasciamo andare La lasciamo andare Noi abbiamo Completato la nostra Missione Ma come dicevamo Abbiamo una Ventina di giorni A disposizione A disposizione Quindi Di una Ventina di giorni Di cibo Quindi Andiamo a fare Un altro po' Di pattugliamento Di questi Settori Tutto a posto Qua Velocità Un terzo E andiamo Abbiamo ricevuto Un messaggio Rifornimenti Di frutta E verdura Fresca Perché ci sono Mmm C'è un botta Afflitto Dallo scorbuto Va bene Siamo anche Veloci Prima che Lo scorbuto Faccia troppi danni C'è anche Un Una segnalazione Con voglio Qua dietro Ma Prima I nostri Amici Affetti Dallo scorbuto Speriamo Non siano Troppo Scorbutici Ah si Devo andare In superficie Per me I motori Invia Una squadra Uno Due E non ho Va bene Tre E sei Continua Capitano Di questa Nave Ha accolto Wondreski Dopo un breve Scambio Corte Senta Da tal punto Ha chiesto Delle risorse Di cui aveva Parlato Il messaggio Consegna Al cibo Siamo Lieti Di aver Aiutato Ok Andiamo Però a Vedere A questo Punto Quanto Le nostre Risorse Sono state Drenate Avremo Almeno Spero Una decina Di giorni Ne abbiamo Allora Qui c'è Ancora Tutto Portiamo Tutto Il pane Che c'è A disposizione E No Ancora 23 giorni Perfetto Quindi Dicevamo C'era una nave C'era un convoglio In quella direzione Ma noi Continueremmo Imperterriti Verso Questa direzione Avanti Un terzo Sono sempre In allontanamento 18 39 È l'una Di notte Potrei Provare A saltargli addosso Ma gli arriverai Di coda Mi fa Una paura Allucinante Va bene Dai Proviamoci Intercettazione In emersione Velocità Massima E cerchiamo Di arrivare A questo Convoglio E andando A tutta Velocità Siamo Effettivamente Riusciti A superare Il convoglio Urca Ce ne sono Addirittura Due Di convoglio Ma Continuiamo A tenere Questo Sott'occhio Che è In avvicinamento Andiamo Anche A vedere In superficie Sono le 8 Di mattina Abbiamo I radar Accesi Vediamo Se troviamo Qualcosa Ecco Un sacco Di fumaioli Noi andiamo Sott'acqua E ci avviciniamo Il più lento Possibile Avanti Un terzo Ecco Cominciamo Con Delle Bruttissime Navi Mediaguerra Sto Mandando Un messaggio Molto vicino A loro Speriamo Non ci sentano E provo A passarle Dietro Ok Qui c'è La prima nave Andiamo A vedere Di cosa Si tratta Ho cercato Di metterla Avanti A me Direi Da questa Distanza Potrebbe Essere Comunque Qualcosa Di grosso Dei cannoni A bordo Che abbiamo Rilevato Ah ok Sono due Navi Una dietro L'altra Quindi questa Potrebbe essere Una victory Sento delle campane Suonare E ciò non mi piace Ed eccoci Quattro nodi Che è ridicola Come velocità Angolo di prua O meno dei 90 Distanza 3 km Che è un'era Di dio Sono 135 Metri Siamo 129 3 siluri E Sono dritti 39 Los E' veramente Un tiro Dalla distanza Questo E mentre Stiamo sentendo Bombe Di profondità Quindi C'è probabilmente Al solito Un secondo Botti Insieme a noi Io spero Che nel traffico Almeno Una nave La colpiamo Se loro Continuano Andare Dritti Spero 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 Che non abbia Fatto un'accelerazione Improvvisa Siamo a 40 Secondi All'impatto Io non so Che zoom Tenere Andiamo al zoom Massimo 20 secondi 20 secondi 10 secondi 10 secondi Ai 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 Allora ha colpito un nemico Oh si no l'ha colpito ma era Ok l'ha colpito dietro non l'abbiamo visto Perfetto uno ha colpito Gli altri due potrebbero essere in giro Sembrerebbe comunque un buon danno Quindi soprattutto su un colpo sul retro Molto probabile che al limite Dovremmo semplicemente darle un colpo di grazia Ma sembrava già conciata quando la guardavamo Adesso no sta andando giù Sta assolutamente andando giù Ok abbiamo una c3 invece Proviamo a mirarla Una c3 dicevamo Mi prendo la velocità perchè mi sembra diversa dall'altra Tanto c'è molta confusione In questo convoglio Guardate passa una roba Avanti e roba indietro Questa occhi di sette nodi li fa pure C'è da dire che stiamo vedendo molto la più vicina Rispetto alla Liberty Che abbiamo colpito per Probabilmente fortuna Ok imposta Infatti fai sette nodi Angolo di prua Un po' così Distanzarm 7 Knoten Lage 1 0 1 Bug links Rohr 1 bewässern Rohr 2 bewässern Wasserbomb In beträchtlicher Entfernung Rohr 1 bewässert Rohr 2 bewässert Aktualisieren Geschwindigkeit 7 Knoten Entfernung zum Ziel 3 9 8 8 8 meter Loss Ok Vediamo se i nostri conti sono stati esatti La distanza non era poca 40 secondi all'impatto Mi preoccupa che ci sono i navi che vanno avanti e indietro Capisco quelle da guerra ma non quelle da carico 20 secondi 10 secondi 10 secondi 10 secondi Saronava in vista Dai Mancato 2 mancati occhio Quindi è il caso di riprovarci Avanti mezza Allora se la velocità è 7 nodi Riprendiamole la distanza La distanza ora è molto più corta Facciamo 3 siluri 130 Ok un po' meno questo Los Sto lanciando molti siluri per nave ma stiamo parlando di C3 e Liberty quindi Io penso che la spesa sia giustificata Ed eccoci a guardarlo dal punto di vista del bersaglio Stanno cominciando a zigzagare quindi Meno male che abbiamo fatto un bel ventaglio di siluri 40 secondi I siluri mi sembra di averli visti Cominciando a ravvicinarsi Qualcosa è andato a fare Ed eccola qua Presa in pieno E comunque guardate quanto sono grandi questi Convogli Sì non c'è assolutamente solo Il nostro bot in giro Vedete che c'è qualcos'altro che sta andando a fuoco Che questa qua dietro Sembra No Questa è a posto Questa invece Sembrerebbe in fiamme Ma non siamo stati noi Quindi Ehi I convogli in questo gioco non sono piccoli Adesso io Non barerò guardando esattamente che navi ci sono in giro E quindi continuiamo così Quindi un'altra in affondamento Questa sta affondando ma Fatemi mettere un puntino su questa perché Può darsi che dovremmo tornarci Questa è andata Questa sta andando Questa è in avvicinamento e sta andando anche lei Cioè sta muovendosi più che sta andando Perfetto Allora noi teniamo questa velocità Cambiamo rotta e mettiamoci in posizione 90 gradi di tiro su questa Jaina Bayard Che andiamo Subito a guardare Non è questa Questa è andata Sparcazione sconosciuta Altre robe in fiamme Ecco la Bayard La agganciamo Forse abbiamo navi più vicine ma Ok questa è un'altra C3 E noi prendiamo volentieri Diciamo che sta facendo i 7 nodi come le altre Le diamo un angolo di prua Leggermente a nord Ne prendiamo una distanza 2.800 Abbiamo 3 siluri Carichiamo E quindi È quasi dritto avanti a noi Quindi Los Andiamo a ricevere comunicazioni Messaggi criptati Colonna di fumo Dalla Hermond I lurati Dalla Hermond Allora Passo Allora Zoom inferiore E guardiamo Come sta andando 30 secondi 30 secondi 20 secondi 20 secondi Colpita Un colpo Vediamo se ne arriva anche un secondo Anche se in realtà avevo dato Avevo dato una Uno spread molto più ampio Penso comunque un silur sia più che sufficiente a A raffondare queste navi E abbiamo colpito Un'altra nave Eccola qua Questa è stata colpita da uno Dei nostri siluri avanzati Quindi è un po' un bonus E anche lei sta andando giù Questi sono i famosi siluri che inseguono I motori Quindi vedete Io lancio 3 siluri contro una nave Uno colpisce Uno colpisce Gli altri due Probabilmente A questo punto faranno danni Questa è una liberty Che ci siamo affondati Praticamente gratis Ok Quanta roba c'è rimasta A bordo Da lanciare Perché poi alla fin fine Questo gioco si riduce Tutto in questa No? Noi carichiamo dei siluri E li scarichiamo su un Sulle prime cose che vediamo Facciamo più danni possibili Torniamo al porto E ricominciamo Ok Vediamo un po' Nel mentre Cercando di non farci ammazzare Naturalmente Non c'è siluri Ma di prua Ne abbiamo solo uno Quindi Io direi Che se Tutto va bene Io potrei anche In questa missione Giornaliera C'è questo siluro Che sta andando Da qualche parte Se questa non è ancora Affondata Andiamo a vederla E per il resto Io passerai In silenzioso E mi conserverai Il siluro Ok Passiamo anche A 150 metri Silenziosi E Contromisure Esche E cerchiamo Di non farci vedere Risaliremo Quando la situazione Si sarà stabilizzata Naturalmente La velocità massima In immersione Serve Per andare giù Il più velocemente Possibile Magari a un certo punto Vedremo La differenza La differenza di velocità D'immersione Alle varie velocità E io Fermerei i motori E vediamo se Effettivamente Il convoglio Si muove Avanti a noi Come al solito Sono ancora Carica di profondità Lontane Non sento più Che ci pingano Sul Sul Sonar Ok Ce ne siamo stati Un bel numero Di ore Siamo stati Un bel numero Di ore Sott'acqua Abbiamo anche Dell'acqua Nelle varie Nelle varie Sentine No Più che altro Ne abbiamo Un po' In sala Di controllo Ok Non preoccupiamocene Troppo Torniamo A colta Periscopio Salita Verticale Senza Motori E vediamo Se la situazione Si è Calmata Ok Sembrerebbero Esserci Due navi Affondabili E dei relitti Andiamo A concludere Quindi il lavoro Avanti Un terzo Immersione Il convoglio Ci ha smollato Ed eccoli La prima nave Affondabile Andiamo Con il nostro Capitano Al cannone Da 88 Al dare I famosi Colpi Di grazia Ecco Il capitano Che è andato In posizione Devo dire Che questa posizione D'affondamento È un po' Ridicola Speriamo Non servono Troppi colpi Comunque Noi abbiamo Un sirvolo Da parte Questo mi sa che è andato In acqua piena Eh ha bisogno Di più colpi Del previsto Comunque Poco a bordo Spero che basti Vediamo Un momento Ok motori fermi Ok andata E andiamo verso l'altra Due chilometri e mezzo Ok assolutamente Sott'acqua Dov'è il nostro Secondo bersaglio Quella là Perfetto Perfetto Prendiamoci un momento Di tempo Avviciniamoci Eccoci qua Avanti lento Questa C3 Invece Sembra No È sempre una Liberty Sembra Molto più Stabile Ma Risolviamo Subito Un po' di fuoco Un po' di fuoco a bordo Un po' di buchi Sulla fiancata Dovrebbero bastare Ancora Ancora 14 colpi Finalmente fuoco a bordo Spero che basti Ma noi continuiamo a darle una mano Ok Ok Non dovrebbe averne più Fai a fondo Dai Ok Penso siano le ultime pezze che stiano collassando La nave è andata Verifichiamo Motori fermi Affondata Perfetto Affondata 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 Sembra che abbiamo fatto i nostri bei danni Potremmo raccattare qualcosa Ci sono scialuppe ma No non ho voglia di Mettermi A distribuire cibo Avanti mezza immersione Torniamo al porto Ed eccoci di ritorno alla Rochelle Il 25 ottobre Abbiamo passato Siamo rientrati in porto Non ci sono ancora I nostri bei bunker E come vedete Continua a piovere Quando noi torniamo in porto Non so perché Un'altra buona missione Vediamo se qualcuno ha preso qualche medaglia Sembra di no Croce tedesca d'oro Per Aro Vondreschi E noi abbiamo fatto Quasi il primo livello del Pozzo Nero In una sola uscita Non male La Rio La Rio Chubut La Edgar Erastus La Empire Ballad La Empire Dawn La James Bayard La SSIB Armond La SSAJ Cassatt E direi che abbiamo fatto Una quantità di danni Notevoli Tra quelli voluti E quelli che i nostri silori Hanno fatto per conto loro O forse anche dei bersagli colpiti Da altri sommergibili A cui noi abbiamo dato Un colpo finale Molto molto buono Direi questa uscita E direi che da qui A quando gli americani Cominceranno veramente A capire come Contrattaccare Mi sa che potremo fare Un bel po' di danni In ogni caso Noi per questo episodio Ci fermiamo qui Siamo ad ottobre del 41 I nostri non pensano Abbiano subito bisogno Di un'altra vacanza Probabilmente attorno a Natale Un'altra vacanza Sarà d'obbligo Ma noi usciremo in mare Un'altra volta Nel prossimo episodio E quindi io vi lascio Al prossimo episodio